Quest'isola è come un'anima sola, circondata dal silenzio del mare. Apre i porti ma non le montagne e chi arriva vorrebbe capire se è un'isola dove gli uomini vivono o soltanto aspettano che scenda la sera per uscire di casa o affacciarsi a un balcone. Io ritorno a quest'isola come spesso ritorno a me stessa, le sue pietre, i suoi rovi mi feriscono e mi rendono viva e ascoltare il silenzio portato dal vento di mare mi aiuta e mi trovo a pensare che affacciarsi a un balcone serve solo su un'isola dove riesci a vedere da una casa in collina l'azzurro profondo del mare. Grazie.